A girovagato per tutta la Romagna e lasciando un Sant'Arcangelo in difficoltà economiche, il centrocampista Emanuele Cascione indossa dopo le maglie di Rimini e Cesena anche quella del Forlì. Fattore decisivo nella scelta di abbracciare il galletto, l'insistenza nella trattativa del DS Andrea Galassi. Questa squadra ha le potenzialità per competere con le squadre di alta classifica. C'è stato il deficit dell'inizio campionato e la distanza è tanta rispetto alle prime tre o quattro. Però in questo momento penso che non bisogna neanche tanto guardare la classifica, bisogna pensare partita dopo partita a quello che riusciamo a migliorare, correggere gli errori. Di fronte a un gruppo coeso con la voglia di emergere e risalire la china. La peculiarità, rispecchiare l'anima e la mentalità dell'allenatore Stefano Protti. Già dal primo allenamento ho sentito un ambiente professionale, al di là se ci troviamo in Serie D e questo per me è molto importante. Tira quindi aria nuova nello spogliatoio bianco-rosso anche dopo il successo ottenuto per 3-0 sulla Iesina nell'ultimo turno. La vittoria di domenica penso abbia dato ancora di più consapevolezza dei mezzi che a questa squadra perché secondo me possiamo fare un ottimo giro di ritorno.